Assieme a Claudio consegneremo l'Eastern Star Award che premia una personalità del mondo del cinema che con il suo lavoro ha contribuito, proprio come il nostro festival, a gettare un ponte tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. Signore e signori, Monica Bellucci. Sono veramente onorata. Ringrazio il Trieste Film Festival per questo premio che mi ha anche permesso di conoscere questa vostra città meravigliosa.